In odontoiatria tutti sappiamo che i maggiori produttori di aerosol sono la turbina e il labbratore e per questo il poliambulatorio Centro Taurus ha deciso di acquistare il dispositivo di protezione scudo. Questo dispositivo per gli operatori che lo utilizzano hanno riscontrato sin da subito una semplicità nel suo utilizzo, molto maneggevole e molto pratico. Lo scudo d'aria che produce riesce veramente a ingabbiare tutto l'aerosol prodotto dalla turbina e dall'abbratore, il feedback del paziente è molto molto positivo, ha dato maggior valore alla prestazione odontoiatrica che viene eseguita. Grazie a tutti.